Seta è la società che gestisce il ciclo dei rifiuti all'interno del consorzio di Bacino 16 e fino a qualche anno fa la discarica di Chivasso è stato un importante punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti. La discarica è stata completata ma ha portato con sé i problemi della gestione e della post-gestione che devono essere regolati, che devono essere tenuti sotto controllo e il fatto di aver realizzato l'attubazione del percolato d'otto ci consente di avere maggior controllo sulla gestione dei percolati, garantire la sicurezza ambientale e da questo punto di vista trovare una sinergia tra gli enti pubblici, quindi Comune di Chivasso che ha fortemente voluto questa realizzazione e SMAT che gestisce la depurazione dei rifiuti in un modo ottimale superando il problema del trasporto su gomma.